buongiorno buongiorno amici e amiche del canale buongiorno dal vostro nick juve un grande abbraccio a tutti mi raccomando al solito prima del video iscrizione al canale like e condividete il più possibile è una cosa interessantissima questo nuovo modus per fare la supercoppa anzi scusate la supercoppa italiana è fantastico c'è un fascino un appeal un seguito un proprio li vedi in quello stadio ammassati sembravano le formiche per quanto erano proprio era strapieno quello stadio gremito proprio la gente pullulava pullulava ecco però detto questo mi è piaciuto che poi alla fine vediamo stasera come andrà a finire hanno invitato e allargato questa supercoppa italiana ad altre due squadre la fiorentina e la lazio semplicemente per farle schiaffeggiare soltanto per fargli guadagnare 1 2 milioni di euro per la presenza e quello si è vestito da arabo quell'altro da quelli sono dettagli giustamente quello fa film quindi era giusto si vestisse anche lui con quel costume e giustamente ieri stamattina erano tutti euforici che a questo napoli è tornato il napoli è tornato no state calmi non è tornato nessuno semplicemente gli accordi erano questi si sono presi i soldi anche quelli della fiorentina hanno fatto la loro partecipazione un po di pubblicità perché sono stati visti da 4 5 persone e però la doveva vincere il napoli perché la supercoppa italiana da che mondo è mondo è sempre stato chi vince il campionato con chi vince la coppa italiana quindi per norma dovrebbe essere che si presentino in finale il napoli e l'inter l'unico mio dubbio è che il signor lotito magari in questi anni abbia detto ragazzi allora avete agevolato quella avete agevolato quell'altro avete fatto vincere quella avete fatto quello vincere quell'altro in una supercoppa italiana ma la date pure a me ma la date che sto sempre lì zitto zitto non dico nulla e non mi aspetta mai in trofeo ecco l'unica piccola cosa può essere che siccome la seconda stella di cartone può essere la digano all'inter e allora mi viene mi può sorgere il dubbio che alla lazio vogliono dare qualcosina anche se sono più convinto che alla fine forse mi sbaglio forse no sarà nuovamente napoli inter e sarà l'inter a vincere la coppa la finale e la supercoppa italiana visto che anche zango ormai si è esposto che si prenderanno 8 milioni 7 milioni li prenderanno loro come società perché ragazzi ancora gli devo dare i soldi per la tassa là di quelli che hanno preso barella tutti quelli che hanno preso da 10 anni a sta parte ancora sono con degli insoluti che non hanno come pagarli e un milione e mezzo sentite beh ascoltate bene un milione e mezzo lo dividono per 26 cioè questi sono dati fine in arabia quelli dell'inter per guadagnare circa 70 mila euro la testa 70 65 68 giù di lì quindi un cifrone quindi è una coppa che l'hanno venduta ma di schifo che più schifo non si può perché ormai non hanno capito che continuare ad alimentare e polemiche arbitrali a fare fare polemiche arbitrali ogni domenica magistratura e cazzate varie non stanno facendo altro che abbassare sempre più il prodotto la pill verso questo torneo che ormai per quello che il compenso hanno dei diritti televisivi forse il terzo il quarto il quinto non lo so più dove cazzo è andato a finire forse il campionato del congo è più entusiasmante va bene quindi io non so voi cosa ne possiate pensare di tutto questo per me è una farsa che continua perché anche ieri la fiorentina lui ha fatto ma pena 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 cioè si è presentata palesemente per fare solo da ostacolo in campo ma ne hanno rotto le palle con lo scansuolo a noi a noi che negli ultimi quattro anni abbiamo perso cinque volte col sassuolo andassero a fanculo sassuolo te ne devi andare in biti sei scansato e ieri la fiorentina che cazzo ha fatto ma ce ne fosse uno uno che avesse detto abbiamo vinto perché era evidente quelli della fiorentina non hanno fatto un cazzo anzi fanno gli esalta che cazzo vi esaltate che avete una squadra che questa non riesce neanche a raccapezzarsi di quel che cazzo deve fare partita dopo partita dai siate 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 un attimino ogni tanto ogni tanto non sempre onesti intellettualmente lo so che è difficile perché l'intelletto non fa parte di tutti ma cazzo una volta una dite le cose realmente come sono e come vanno cioè non è che vi pagano per dire le minchiate solo per essere tifosi della vostra squadra io nel bene e nel male della mia squadra quando ci sono cose che non vanno le dico quando ci sono cose che mi piacciono le dico quando ci sono cose che vanno non vanno sugli altri club o delle coppe che sono veramente uno scandalo come quella di ieri sera una cacata colossale con forse erano 2000 persone in tutto lo stadio non si può organizzare una porcheria simile su iscrizione al canale mi raccomando like e condividete il più possibile un grande abbraccio dal vostro e al prossimo video ciao